ciao ragazzi benvenuti sul mio canale mattiamo e stiamo giocando alla switch e staremo per giocare a maresoni crampiadi iscrivetevi al canale vi farò vedere oggi calcio di maresoni crampiadi e rugby di maresoni crampiadi sto cercando andre si hai hai e e e e e e e e iniziamo la partita, Mario conto a Metal Sonic di calcio e iniziamo la partita, la faccio un pallo, la faccio un pallo no come? ho segnato vediamo il video del gong si vediamolo che bomba era? ora per il pallonetto no è andata no 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 il tempo è scaduto 1 a 0 per la squadra di mare 1 1 al 0 g 1 non 1 1 1 1 la palla è andata un'altra volta fuori ora possiamo mostrare la palla e la parata quindi gol 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 2 a 0 vediamolo e gol il calcio d'angolo o grazie papi grazie signore no 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 parata l'ho parata scusate che ho vinto io la partita bravo l'uomo si ho vinto ho vinto 2 a 0 gol di mario e gol di luigi dei due fratelli altresimo video ciao e e e e e memang il